2020, l'anno dei 40 anni di Radiomondo Ciao, sono Vincenzo Colaluce, sono da Radiomondo da sempre per 22 anni sono stato lo speaker radiofonico della mattina e sono qui per fare gli auguri a questa splendida emittente che fa parte della mia vita perché io Radiomondo ce l'ho nel sangue auguri Radiomondo 2020, l'anno dei 40 anni di Radiomondo